proveremo a fare un altro evento proveremo a fare questo evento di San Valentino andiamo a fare questo evento e vediamo se riusciamo a vincerlo attenzione perché l'ho quasi ucciso cazzo da dove è uscito quest'altro quello è un clone, si vede palese che è un clone cazzo siamo circondati, porca puttana porca troia cominciamo proprio malissimo, come non cominciare una partita oddio ma non si può giocare in questo modo qui ancora dobbiamo cominciare ancora dobbiamo cominciare e già succesano queste cose assurde proprio ma quale rabbia? che cazzo di rabbia mi dici? ricominciamo come se non fosse successo nulla abbiamo cominciato ora ok ok, distruggiamo le casse super rapidamente attenzione perché già intravedo la prima squadra che sta già lottando con altri personaggi era un cazzo di clone tra l'altro era, porca troia allora ai 7 power up ai 7 power up io non voglio essere cattivo con questo gioco io non voglio esserlo cattivo io non sono cattivo in realtà in realtà in realtà in realtà quanto giocate a questi giochi di minchia raga è una cosa è una cosa finiamola qua due belle cassettine tutte per me tutte per me attenzione perché qua ce ne sono altre due e c'è anche un figlio di troia qua porca puttana vattene da qui e ti pareva e ti pareva porca di quella puttana ti pareva non possiamo vincere nemmeno una cazzo di partita porca troia subito manco il tempo di cominciare adesso non lo so io non so se c'è qualcosa con questo gioco o è una maledizione non ne ho idea non ne ho idea sembrano cose fatte apposta bro allora cazzo ormai non ne possiamo prendere più vediamo se riusciamo ad uccidere qualcuno perché questa è l'unica alternativa per recuperare qualche power ecco qua ti pareva che non prendeva la cazzo di roccia vaffanculo ed esce questo dal nulla 13 power up belli vada ma vaffanculo quello si è fatto uccidere come un coglione ma vabbè questo qua si va nascondendo dietro i muri figlia di puttana ecco per chi ti nascondeva ecco per chi ti nascondevi vaffanculo l'ho ucciso scontro finale finalmente si vede che sei un cazzo di coglione di merda si vede porca puttana vabbè secondo posto ci accontentiamo perché finalmente una partita è andata come doveva andare dobbiamo rifare la stessa cosa sopravvivenza ti raccomando vinciamo dopo 50 anni pure a te va ecco ma porca di quella puttana non si può fare una cosa così non si può fare uno non può andare nemmeno in mezzo che subito ti uccidono recuperi anche quei cazzo di amici che non sanno manco come è fatto il gioco e se è posto guarda porca puttana non riesco manco a parlare da quando sto incazzato immagino ma porca di quella zocco la va ma non è possibile una cosa del genere non è reale non è reale cazzo guarda sta guarda sta altro coglione ma non è possibile non sanno giocare proprio invece di scappare cosa fa stai lì ti piandi come un cazzo di coglione porca puttana manco fosse un cazzo di palo porca puttana dio kamaya de dio ah se ti prendo coglioncello oh allora forse questa partita ci va bene forse ho detto non era una era una supposizione quella che ho detto io vieni qua vieni qua vieni vieni perché non vieni qua a pezzo di coglione hai paura pezzo di merda vieni qua vieni qua perché non vieni qua tanto lo so che siete tutti qua dentro allora ne ho ucciso un altro con il potenziamento non era da quella direzione che dovevo andare però ci accontentiamo cazzo quanti power oh mio dio quanti power si abbiamo vinto stravinto meritata questa vittoria meritatissima ok calmiamoci un attimo ritiriamo la ricompenza sopravvivenza in due ancora ah tutte sopravvivenze in due sono ma porca troia vabbè capirai e come al solito veniamo uccisi vediamo il nostro compagno che cosa combinerà se mi deve far bestemmiare di nuovo non lo so scopriremo tutto tra pochissimo avete visto che cosa è successo da voi non è che devo parlare più io ok l'ho ucciso il problema è che ancora ci sono tutti qua non ne prendo uno non ne prendo uno allora la cosa importante è che l'ho ucciso adesso cosa vuole succedere succeda porca puttana ci è mancato pochissimo cazzo 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 se era più vicina porca troia ok 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 benissimo benissimo no non c'è andata non c'è andata è pericolosissimo lo sapevo io cazzo ti prego ti prego proprio ti prego ti prego ti prego non morire non fare cose strane ok siamo ancora tre squadre devono sparire almeno altri due personaggi qua uccidilo uccidilo bravissimo bravissimo dov'è il suo compagno adesso sarà quello il suo compagno sicuro cazzo cazzo no vabbè l'importante è aver vinto il resto non è che mi interessa tanto noi abbiamo tutte queste monete andiamo a potenziare i brawler qua c'è anche la riconvenza gratuita per doppio xp ci sono i robottini qua andiamole a potenziare tutti possiamo mettere anche un'abilità speciale mettiamo questo qua ovviamente lo andiamo a selezionare e andiamo a vincere adesso vediamo se ci riusciamo a vincere con questo personaggio a vincere con questo personaggio